Presidente Chiamparino, lei che opinione ha delle riforme istituzionali e delle autonomie locali, sono un privilegio o le considera giustificate? Sono frutto di una storia e di specificità storiche, geografiche, morfologiche che quindi legittimano una differenza. Credo anche che sia utile, soprattutto nel quadro della revisione del titolo quinto, cioè dei rapporti tra Stato centrali e regioni, trovare forme di nuova regolazione nei rapporti anche tra le regioni statuto speciale e lo Stato e anche con le altre regioni. Perché obiettivamente il rischio che possano apparire più come dei privilegi che come delle legittime differenze è un rischio che nell'opinione pubblica italiana c'è. E quindi migliorare l'autonomia delle regioni ordinarie oppure ritoccare in qualche modo quella delle regioni? Lei ha toccato il punto esatto, secondo me si tratta di rafforzare l'autonomia delle regioni statuto ordinario, la riforma del Senato nel senso che sta imprimendo il governo, cioè di una rappresentanza delle regioni può andare in questa direzione. Penso anche che si possano rivedere gli attuali poteri, le attuali prerogative delle regioni statuto speciale, perché credo che dopo 60 anni una revisione si impone per qualsiasi motore, senza che questo voglia dire mettere in discussione delle differenze che ci sono e devono restare.